Buonasera, allora da tre ore abbiamo un nuovo governo che ha giurato al Quirinale. Sappiamo che il governo Monti, quello che si poteva prevedere, ma non in misura così intensa, è che fosse un governo davvero tecnico e molto tecnico. Quando hai un economista, presidente e ministro dell'economia, quando hai un prefetto, ministro degli interni, quando hai un ambasciatore, ministro degli esteri e hai un ammiraglio ministro della difesa, il governo è sicuramente proprio tecnico e in queste ore arrivano le forze politiche a dire la loro, a promettere il loro appoggio, tutt'emmeno la Lega, quelle rappresentate in Parlamento, anche se Di Pietro ha i suoi distinguo, voteremo la fiducia ma poi andremo caso per caso, è che evidentemente è un governo a forte caratura economica, soprattutto perché insieme ai ministri squisitamente settoriali, quasi le pagine gialle dei grandi ruoli dei commessi dello Stato, ammiragli, ambasciatori, prefetti, c'è anche un super banchiere come Corrado Passera che lascia intesa San Paolo e diventa ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture, accorpando due ministeri di serie A pesanti con un forte ruolo. La figura di Passera è quella anche più conosciuta all'interno della compagine dei tecnici di Monti, ma le figure importanti sono tante, ci sono tre donne, il già citato ministro all'interno, un prefetto Anna Maria Cancellieri che è stata a Bologna protagonista di una fase proprio di vacanza della politica, come un po' è quella di oggi a livello nazionale, con le dimissioni della loro sindaco e il periodo commissariale e si fece distinguere e ben volere. C'è un ministro del welfare che è una grande studiosa, Elsa Fornero, di problemi del lavoro e c'è un avvocato di grido, come si dice in questi casi, Paola Severino, a ministro della giustizia. Quindi ce n'è di tutto, c'è un ambasciatore, come ho già detto, ministro degli esteri e che è un ambasciatore? Un ambasciatore che ha rappresentato il nostro paese in sedi calde, dall'ONU a Israele, adesso anche a Washington, Giulio III di Sant'Agata. Quindi ci sono figure che sono preminenti nel loro settore, c'è Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio. Ci sono altri due ex-rettori, uno lo è ancora, un altro lo è accessato di esserlo da poco e anche Monti del resto è stato rettore della Bocconi di cui è presidente, c'è l'ex-rettore del Politecnico di Torino, Profumo all'istruzione e il rettore della Cattolica di Milano, Ornaghi, ministro dei beni culturali. Quindi c'è di tutto, meno che i politici. Non si sa neanche se ce ne saranno tra i viceministri e i sottosegretari, tramontato il tentativo di portare Amato e Gianni Letta. Ora bisognerà vedere perché se questo governo prenderà piede, avrà successo, avrà favore popolare, la domanda sarà inevitabile. Ma allora la politica a cosa serve? Vedremo anche che ci sono altre notizie perché tra tutti quelli che festeggiano, che dicono bene del governo, ci sono anche le grandi realtà internazionali partner europei, ma non il signor spread perché infatti il differenziale tra i nostri buoni del tesoro decennale e i bund tedeschi è stato molto alto anche oggi, anzi si è avvicinato ai livelli record, ma del resto è stato così anche in altri, in tanti altri paesi europei. E poi passeremo a uno scandalo tutto italiano, quello del San Raffaele di Milano e lì si mira molto in alto a quanto pare. Oggi intanto sono cominciati gli arresti e gli avvisi di garanzia. Ma intanto andiamo ai titoli. Il prefetto Anna Maria Cancellira all'interno, l'ammiraglio di Paola alla difesa e agli esteri l'ambasciatore terzi di Sant'Agata e poi un gran numero di economisti, tutti superqualificati, quattro a disposizione del Premier che tiene l'interim del Ministero Economico. Più tecnico di così il governo Monti non poteva essere. Evidente la soddisfazione del capo dello Stato al nostro microfono dopo il giuramento della squadra di governo. È stata un'operazione difficile, abbiamo trovato le soluzioni giuste, dice Napolitano, che aggiunge dall'Unione Europea già segnali di fiducia. C'è un elemento di spicco in questo governo, innegabilmente. Il superministro stavolta è Corrado Passera, che dalla guida di Intesa San Paolo vola verso un doppio ministero, un accorpamento deciso su misura per lui e che vede insieme sviluppo economico e infrastruttura, anche tra qualche polemica. Tra Berlusconi e Monti un passaggio delle consegne sereno. Poco fa, detto l'ex Premier, abbiamo lasciato le cose in buone mani. Sorrisi fair play con Mario Monti che ringrazia Berlusconi per il lavoro svolto. Poco prima nel Quirinale Napolitano aveva invece elogiato pubblicamente Gianni Letta. Se festeggia tutta o quasi la politica, in alcuni casi si chiede cosa ci sarebbe da festeggiare, non festeggia invece lo spread che rimane alto a 519 punti. Segni positivi invece per Piazza Safari che chiude con un ottimistico più 0,79%, aspettando il programma del neonato governo. Caso San Raffaele, una vera e propria raffica di perquisizioni con la Guardia di Finanza negli uffici della Presidenza, nelle abitazioni e persino in due yacht. Don Verze tra gli indagati insieme a altre quattro persone e c'è un arrestato di spicco. Questa è l'ipotesi degli inquirenti, creazione di fondi neri. Buonasera e benvenuti anche stasera al Tg La 7, è il giorno del governo Monti che ha giurato tre ore fa esatte. Un governo con molte novità, qualche sorpresa, tutti tecnici, tutti esperti precisamente nel settore del ministero che vanno a guidare. L'unico grande assente, la politica, i partiti. Lista corta, anche se meno del previsto, 17 ministeri contro i 23 del governo Berlusconi, prevalenza nordica, età media elevata, 63 anni, tre donne in ruoli chiave. È nato il governo Monti, il primo esecutivo di natura tutta tecnica della storia della Repubblica. Sono professori, avvocati, economisti, tutti superqualificati nelle loro professioni. Resta a Mario Monti l'interima del ministero dell'economia. Lo accompagneranno vice o sottosegretari di peso, si dice quattro, con le deleghe alle finanze e al tesoro. La componente femminile è ridotta rispetto al passato, ma sono ministeri tra i più importanti, quelli affidati ad Anna Maria Cancellieri, prefetto in pensione, ex commissario del comune di Bologna, che si insedia al Viminale. Paola Severino di Benedetto, napoletana, avvocato penalista di Grido, ex vicerettore della LUIS, sarà il primo guardasigilli donna. Ed Elsa Fornero, economista torinese, superesperta di previdenza, è diventata la prima ministro donna del welfare e del lavoro. Ruolo chiave, con la riforma previdenziale in agenda, per la professoressa che sostiene il passaggio al sistema contributivo e la progressiva abolizione delle pensioni d'anzianità. Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, dopo la rinuncia Elveto su Gianni Letta, Antonio Catricalà, che di Letta è molto amico, attuale presidente dell'antitrasta. Agli esteri, oggi assente al giuramento perché raggiunto dalla nomina oltreoceano, l'ambasciatore italiano a Washington, Giulio III di Sant'Agata, fu in Israele durante l'intifada palestinese e contribuì al viaggio dell'allora vicepremier Gianfranco Fini a Gerusalemme. Alla difesa, altro assente oggi, l'ammiraglio Gianpaolo Di Paola, presidente del Comitato Militare della Nato, che si trova in missione a Kabul. Ministro importantissimo allo sviluppo economico, infrastrutture e trasporti, l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Corrado Passera. Alla salute, il giurista Renato Balduzzi, all'agricoltura Mario Catania, esperto di politiche comunitarie. Corrado Clini, già direttore generale del Ministero all'Ambiente. Lorenzo Ornaghi, rettore della Cattolica e beni culturali. Enzo Moavero Milanesi, storico braccio destro di Monti a Bruxelles, agli affari europei. A Turismo e Sport, il Gran Commie ed ex presidente Enel Piero Gnudi. Alla coesione territoriale, l'economista Fabrizio Barca e un altro economista, già sottosegretario con Dini e Prodi, Piero Giarda, ai rapporti con il Parlamento. Infine ancora un cattolico, il fondatore della comunità di Sant'Egidio Adria Riccardi, alla cooperazione internazionale. L'articolata e ponderata scelta della squadra supertecnica. Sarebbe stata stamattina all'origine del protrarsi per oltre due ore del colloquio inquirinale tra Napolitano e Monti. Il professore avrebbe voluto motivare tutte le sue decisioni sulla squadra di governo e metterle al vaglio del presidente, anche prima di comunicare la nomina ai diretti interessati. Monti, che qualche ministro politico lo avrebbe voluto per blindare il suo governo con i partiti, alla fine ha dovuto rinunciare. La blindatura ci sarà con l'efficacia dei nostri provvedimenti, ha rovesciato l'argomento. La non presenza di politici agevolerà il lavoro invece di ostacolarlo, toglierà motivi di imbarazzo. Spero che governando bene e seriamente, con il loro apporto, io e il mio governo possiamo anche dare un contributo al rasserenamento e alla coesione tra le forze politiche. Rassereneremo anche l'Europa e i mercati, ha detto fiducioso Monti. Nessuna anticipazione sul programma, fino a domani, con il passaggio al Senato. Venerdì ci sarà la fiducia della Camera e la piena operatività del governo. Non ci saranno passaggi in corsa come sottosegretari politici, perché siamo già partiti e di una corsa si tratterà, è la chiosa di Monti. Questo il nuovo governo, ma soprattutto un governo che è stato praticamente curato fin da prima del parto da una ostetrica decezione. Il capo dello Stato, dalla nomina a senatore a vita di Mario Monti a oggi, passa meno di una settimana, passa il tempo di un blitz che ha portato a un governo nuovo, tutto tecnico, benedetto proprio dal capo dello Stato. Grazie. È stata dura, presidente? È stata delicata e difficile, anche per la sua carica di assoluta novità, la costituzione di questo governo, ma penso che siamo riusciti tutti insieme, innanzitutto, incaricato di formare il governo, il senatore e il professor Mario Monti, in grado di trovare le soluzioni più idonee. Missione compiuta. Alle 18 il governo Monti entra negli annali della Repubblica e prende ufficialmente il largo. Giorgio Napolitano tira un sospiro di sollievo al termine della peggiore settimana del suo mandato. Sette giorni, sette, di graticola sui mercati, un premier dimissionario o dimissionato, saranno gli storici a deciderlo, e uno tutto da creare a capo di un esecutivo plasmato dal niente. Un esecutivo, quello di Monti, che nasce in un clima positivo, dice Napolitano, ma che ha di fronte a sé compiti impegnativi. Un governo snello e che deve essere anche veloce per affrontare di petto l'emergenza della finanza pubblica e le forche caudine dei partner europei. Presidente, un governo all'insegna dell'Europa. Quale si aspetta sarà la reazione dell'Unione Europea adesso all'esecutivo Monti? Lo vedremo molto presto. Abbiamo già avuto molti segnali positivi di attenzione e di fiducia e credo che prestissimo ci saranno conferme di questa positiva predisposizione delle istituzioni europee nei nostri confronti. Le antenne diplomatiche del Presidente dunque hanno captato, se non la benevolenza, almeno il gradimento del nuovo esecutivo da parte delle cancellerie che contano. Il bollino verde delle istituzioni di Bruxelles appare scontato, visto il curriculum di Monti. Napolitano, che tiene alle forme, ringrazia non solo Monti per aver accettato, ma anche il precedente governo e la sua squadra. Lo fa senza nominare per nome Berlusconi, ma nomina invece come l'ex braccio destro dell'ex premier. Uno speciale ringraziamento al dottor Gianni Letta per la continua e sempre scrupolosa collaborazione istituzionale, per la sensibilità, la competenza e lo spirito di servizio con cui ha contribuito a tenere vivo e limpido il rapporto tra il Presidente della Repubblica e il governo, nell'interesse generale del Paese e della coesione nazionale e sociale. Parole che in controluce rivelano forse un po' di dispiacere personale per la mancata presenza di Gianni Letta nel nuovo esecutivo. Assente Gianni Letta, ma presente una figura chiave, un super ministro. Lo è perché accorpa due di casteri di serie A, lo sviluppo economico e le infrastrutture, lo è perché è una figura ben nota alle cronache politiche, ma soprattutto economiche. Corrado Passera fino ad oggi era amministratore delegato di Intesa San Paolo, una delle grandi banche del nostro Paese, è stato in passato, lo sappiamo, a capo operativo, amministratore delegato delle poste italiane, da oggi ha cambiato lavoro, ha fatto quel salto in politica che altri tanti hanno tentato o progettavano. Lo ha fatto almeno provvisoriamente con appunto una posizione speciale che ne fa di fatto il numero due del governo Monti. Il dottor Corrado Passera. Le prime parole del super ministro dello sviluppo economico del governo Monti sono per l'Italia, ci salveremo, dice Corrado Passera, assolutamente sì. Io sono fiducioso che si possano convincere i mercati con piani chiari, con azioni concrete, con grande coordinamento, con buon senso. Insomma, i mercati vogliono, si aspettano da noi che diamo tutto questo. 57 anni lauree alla Bocconi, un passato a McKinsey e poi in altre grandi aziende italiane, tra cui Cir, Mondadori e Olivetti, è il curriculum di Corrado Passera, artefice a fine anni 90, della trasformazione delle poste italiane da carrozzone e portalettere a struttura finanziaria globale con la creazione di Banco Posta. Azienda che con lui nei primi anni del 2000 mette a segno il primo bilancio inattivo, complice a una ristrutturazione con i fiocchi che taglia 20.000 lavoratori. Corrado Passera diventa poi amministratore delegato di Banca Intesa e sotto la sua guida si compie l'integrazione dell'istituto con il San Paolo Inni, che dà vita a Intesa San Paolo. E sempre sotto la sua regia va in porto l'operazione all'Italia e a France. Da oggi Corrado Passera, che ha appena dato le dimissioni da Intesa San Paolo è ministro dello sviluppo economico del governo Monti, riunisce sotto di sé anche infrastrutture e trasporti, segnale di rilancio per la crescita economica più volte invocata da tutte le parti sociali. Lo ha detto lo stesso Mario Monti, la logica della nomina di Corrado Passera è di mettere più al centro le iniziative per la crescita economica e lo sviluppo, e dunque anche più posti di lavoro. È duro lasciare Banca Intesa, ministro. Sì, è forse la cosa più difficile oggi, perché tutto è successo così velocemente, è stata la mancanza di tempo nel salutare tutti, quindi ho potuto soltanto farlo con poche persone. Dieci anni vissuti come abbiamo vissuto non si riescono a chiudere in un giorno. Allora, questi aspetti, tutti gli aspetti di un governo appena dato, ovviamente da seguire subito le reazioni dei partiti, perché diciamolo chiaro, questo è un governo fortemente tecnico, lo dicevamo prima, non per irriderlo tutt'altro, ma un governo che mette un prefetto agli interni, un ammiraglio alla difesa, un ambasciatore agli esteri, un rettore all'istruzione e un governo di esperti che non ha bisogno della politica. Ma la politica ha bisogno ovviamente del governo e il governo semmai ha bisogno del Parlamento. È importante quindi che si prendano le misure, il governo e forze politiche, le quali sono costrette, bon gré mal gré, a dire che tutto va bene, anche se dalle parti di Berlusconi, sentiamo. Nel fin della giornata, oltre alle tante prime volte fotografate al Quirinale, c'è l'immagine dell'addio. Silvio Berlusconi che lascia Palazzo Chigi per la terza volta, forse l'ultima. Il picchetto d'onore nel cortile del Palazzo del Governo saluta la fine di un ciclo, un onore delle armi che arriva anche dal successore. Desidero rivolgere un cordiale saluto al Presidente del Consiglio uscente, onorevole dottor Silvio Berlusconi, con rispetto e attenzione per l'opera da lui compiuta. Da Giorgio Napolitano l'omaggio istituzionale al Governo che se ne va ed un ringraziamento non diritto per quello che è stato, per un totale di quasi dieci anni, il braccio destro di Berlusconi, Gianni Letta, l'ufficiale di collegamento con il Quirinale, anche nei momenti più tesi dei rapporti tra i due Presidenti. Una figura che il Capo dello Stato avrebbe voluto ancora nel Governo, per la sua esperienza della macchina governativa istituzionale, non se n'è fatto nulla, Letta, come Giuliano Amato, è rimasto vittima dei veti incrociati di PD e PDL e non sono servite le ultime frenetiche consultazioni notturne con Alfano da Monti a Palazzo Giustiniani. Ma avere Gianni Letta nel nuovo Governo non era di certo la priorità del PDL che guarda l'esecutivo nato oggi non senza sospetti. Una squadra di alto livello qualitativo, aspettiamo di vederli all'opera, dice Cicchitto. Più dubbioso Svaldo Napoli che vede i ministri in odore di ulivo. Ci sono impronte chiare e visibili del tecnoprodismo, un peccato originale che peserà nell'azione di Governo. Aspettiamo di conoscere il programma, fa sapere Berlusconi che ha convocato per questa sera l'ufficio di presidenza del PDL. L'ormai ex Premier parlerà venerdì alla Camera nel dibattito sulla fiducia per rimanere al centro della scena e per tenere a bada le tante spinte centrifughe nel suo partito. Con Monti siamo in buone mani, ha detto poco fa nell'ufficio di presidenza del PDL Berlusconi. E' ancora più forte, se possibile, il sostegno da parte di Bersani, che ha riunito a sua volta lo Stato Maggiore del Partito Democratico. Fatto si è però che Bersani, così come Berlusconi, dalla sua parte con gli scontenti, deve stare attento al ruolo dell'altra forza parlamentare della sinistra, ovvero l'Italia dei valori di Pietro. E' stata la presenza di Pietro tra i sostenitori scettici del tentativo Monti a impedire l'ingresso di Letta e di Amato, soprattutto di Letta ovviamente, che avrebbe indotto Di Pietro nel caso a non votare la fiducia a Monti, scoprendo quindi sul lato sinistro il PD. Non ci sono politici, non ci sono Gianni Letta e Giuliano Amato. Così quando all'ora di pranzo, dopo una lunga gestazione alla fine, Mario Monti annuncia alla squadra di governo, in tanti nel PD possono rilassarsi e tirare un sospiro di sollievo. Passa il governo tecnico proprio come volevano i democratici. Nel cassetto finisce il giallo che ieri, durante le consultazioni, aveva agitato il partito tra voci di apertura alla coppia Amato-Gianni Letta e smentite accorate. Adesso il via libera di Bersani al governo Monti è convinto e senza condizioni. Credo che siamo a questo punto e che ci sia quindi tutta la possibilità, con convinzione e ciascuno prendendosi la sua responsabilità, di sostenere un operato certamente complesso e difficile di questo governo, aiutando anche il processo di cambiamento. Tra le priorità del nuovo governo ci devono essere le riforme, aggiunge Bersani, che per non scontentare Napolitano e Monti prova anche a chiudere il giallo Amato, mai detto che non ci rappresenta. Non mi aspetto nessuna macelleria sociale, conosco personalmente Monti e tanti suoi ministri, la posizione del segretario PD sul rischio che il nuovo esecutivo, per uscire dalla crisi, possa varare provvedimenti lacrime e sangue. Bersani non esclude poi che ci siano rappresentanti democratici tra i sottosegretari. Ascolteremo Monti, dice. Linea non condivisa da Antonio Di Pietro che annuncia. All'inizio non ci metteremo di traverso. Vediamo che inizia, a cui quindi daremo il nostro contributo con un voto di fiducia. Diciamo da subito che non saranno annoverati, nelle future nomine di sottosegretari di raccordo, alcuna figura né richiesta dall'Italia dei Valori, né proposta dall'Italia dei Valori, né dell'Italia dei Valori. Una squadra da AAA, il commento del vicepresidente futurista Italo Bocchino, freddo invece Nichi Vendola. Scorrendo la lista dei ministri è difficile non percepire segni di continuità con il passato la frecciata del segretario di Sinistra e Libertà. È una frecciata ma anche un dato di fatto per alcuni nomi. Il Consiglio dei Ministri tra l'altro si è concluso da poco. Il primo Consiglio dei Ministri è durato un'ora e vento e è servito innanzitutto per ratificare la nomina del sottosegretario alla presidenza Catricalà, di cui avete già sentito. Ma andiamo avanti. Tra quelli che sicuramente benedicono l'intesa e la nascita di questo nuovo governo, c'è Casini con la guida del terzo polo. Un Casini che oggi ha fatto un Amarcord, ma forse non solo un Amarcord, vediamo perché. È una prova di intelligenza della politica che ha saputo fare un passo indietro per salvare l'Italia, pacificandosi, superando le vecchie discussioni, le diatribe, quelle che ci hanno in gran parte avvilito in questi anni. Berlusconi non ha ancora passato la campanella del Consiglio dei Ministri al suo successore quando, a due passi da Montecitorio, gli ex dc di sinistra, di centro e di destra recuperano se stessi, con mostra, molti video e parterre comprensivo di padri più o meno nobili. Come se fossero loro gli eredi separati della balena bianca, gli artefici della caduta del campione del bipolarismo. O, nel caso di quelli che avevano scelto il berlusconismo, come se quella vecchia casa d'origine fosse la sola possibile scialuppa di salvataggio. Casini e Bracciarosi Bindi si sono separati nel 94 ed entrambi giurano che non si tratta di riunificazione e nemmeno della promessa di future alleanze. Le immagini della platea parlano. Franceschini e Cerino Pomicino, che si è autoaccreditato a fianco di Casini come il tessitore, Marini e Pezzotta, Tabaccio e Forlani, Carre e Buttiglione, Emilio Colombo e Ciriaco De Mita, Mancino e Fioroni e Pisano. Ecco l'ex sottosegretario Francesco Giro, PDL, che sfiora Follini. Tutto si mescola oggi, democristianamente, senza pregiudizi, perché la caduta di Berlusconi c'è stata. Così porte aperte anche per Saverio Romano, Pippo Gianni, i responsabili che mai avrebbero tradito Berlusconi. Presenti Mario Pepe, il grande reclutatore di voti a Montecitorio per l'ex premier, e Gianfranco Rotondi, fino all'ultimo strenuo fautore della tesi che era meglio votare, che questo è il governo delle banche, siede nello stesso parterre che accoglie il di lì a poco ministro Andrea Riccardi e celebre il risultato di ben tre ministri cattolicissimi. Ai tempi della DC al massimo ci sarebbe stato un sottosegretario, ironizzava il sociologo Giuseppe Derita. C'era anche lui. Guai a trarre conclusioni affrettate, a disegnare geografie, scomposizioni dei poli e ricomposizioni. Guai a supporre strizzate d'occhio alla CISL. Tutti negano tutto, è il clima che comincia a cambiare, sussurra un berlusconiano ex DC, che oggi non c'era. Ma passerà, perché la grande festa ex DC finisce sabato e l'invito era esteso anche al segretario del PDL Angelino Alfano. Ex DC, anche lui, atteso nelle prossime ore. Il tutto nella consapevolezza che le prime manovre democristiane avranno spazio nella partita che si giocherà contemporaneamente a quella del governo appena insediato. La legge elettorale è che la posta in palio è già da subito l'eredità politica di Silvio Berlusconi. La morte della DC fu suggellata dall'esplosione della Lega. Oggi, con questi tentativi di rinascita della DC, la Lega torna all'opposizione. E che opposizione? Da partito di governo a partito di lotta. Sarà un confronto molto duro a giudicare dalle parole pronunciate oggi da molti rappresentanti della Lega Nord dopo aver scoperto che nell'elenco dei ministeri del governo Monti non c'è più quello del federalismo, tanto caro al carroccio, ma è stato inserito in maniera più specifica rispetto al governo precedente il digastero della coesione territoriale e quello della cooperazione internazionale e integrazione. L'ex ministro Calderoli è stato il primo a parlare e ha pronunciato parole pesanti. Se il buongiorno si vede dal mattino, si legge in una nota, allora è notte fonda. Sarò felice di votare contro la fiducia al prossimo esecutivo. Nulla da dire, aggiunge l'ex ministro sulla qualità e il livello dei singoli ministri, ma il riscontrare la nascita di questo ministero significa aver creato il ministero del centralismo. Secondo i dirigenti del carroccio, questo comporterà che ancora una volta il nord verrà spremuto per dare la possibilità a qualcuno di continuare a mangiare a sbafo. E questo, si chiedono in via a Bellerio, il riformismo di un governo che non ha previsto neanche un digastero per le riforme? L'europarlamentare Matteo Salvini si spinge oltre. Io non mi sento italiano, non ci rimangono che Giorgio Gaber e la speranza in un futuro diverso. In realtà, il ministero della coesione nazionale non è una novità. Quello che faceva capo al ministro Fitto, infatti, si chiamava Ministero degli affari regionale e la coesione territoriale. Il governatore del Piemonte, Roberto Cota, mette l'accento anche nell'attribuzione delle deleghe, dove, fa notare, non si parla affatto di federalismo. La nuova lega di lotta farà domani il suo sordio in Parlamento, dove ha già annunciato la sfiducia al nuovo esecutivo. La base, intanto, si sfoga su Radio Padania. In molti di quelli che telefonano dal Piemonte si chiedono come si fa a chiamare questo un governo tecnico quando il neoministro dell'istruzione, Francesco Profumo, ha sfidato Fassino alle primarie per la corsa alla poltrona di sindaco di Torino. Altri lamentano l'alta presenza nel governo di uomini legati alle banche. Il bersaglio preferito di tutti, comunque, rimane Mario Monti. E questo è quello che dice la Lega, dal vertice fino alla base. Ma c'è qualcun altro che sicuramente non ha dato mostra di esultanza alla nascita del nuovo governo italiano. Certo, tra gli operatori finanziari si respira un'aria di soddisfazione, certo la borsa di Milano ha chiuso in positivo, ma lo spread, il famigerato spread che è già costato caro a Berlusconi, non è tornato al di sotto del livello di guardia. Non sarà una scampagnata, l'ultima, sebbene autorevolissima, a Cernovia in settembre, a parte gli strani incontri ravvicinati come questo, magari pochi lo sanno, ma sancì l'investitura di Mario Monti. Cosa che arrivò da una platea di industriali e finanzieri, gente insomma rappresentativa dei cosiddetti mercati. Lo spread, già pressante compagno di viaggio, era a 300 punti, sembra un secolo fa, e in fondo sono bastati circa due mesi per convincere il Cavaliere ad andarsene sotto il peso di tante responsabilità, di sicuro anche quella dell'evidenza matematica più schiacciante, che si può fotografare a metà della scorsa settimana, quando la misura del rischio paese, termometro della sostenibilità del debito della nazione, si inerpicò fin qui, al 5,75%, cifra che significò un rendimento sui decennali del 7,43%, oltre il muro del pianto greco, irlandese e portoghese, sopra il 7%, ormai è noto, si lancia all'SOS. Berlusconi se ne andò con questa cifra, marchiata sul doppio petto. In verità non è che oggi il saluto riservato dal perfido spread al nuovo governo sia così caloroso. Il primo spread riservato alla squadra Monti, fotografato un'ora dopo il giuramento, è al 5,19%, un livello di premio a rischio ancora superiore al 7%, seppure di un soffio. In fondo è solo una rigida constatazione algebrica, i mercati, è giusto dirlo, dopo i nomi attendono il programma e poi i fatti, ma non è uno schiocco di dita. Però almeno Piazza Affari non ha fatto mancare il segno più di incoraggiamento, sotto il punto, ma c'è, ed è superiore al saldo di Francoforte, oggi in Rosso, e di Parigi, dove lo spread è rimasto comunque sui massimi, sintomo ormai conclamato dell'apertura di una fase di debolezza, che ormai investe anche i primi della classe. Da noi resta deluso chi si attendeva un recupero da fin meccanica, che i conti hanno dimostrato essere un gioiello di Stato molto appannato, anche oggi è andata giù. Non l'ha fatto invece intesa San Paolo, rinuncia senza scossoni a Corrado Passera, ma anche ad Elsa Fornero, vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza, e incassa sotto sotto il dividendo della celebrità. E allora passiamo alle altre notizie del giornale. Poco fa la Benetton ha ritirato l'immagine della sua nuova campagna pubblicitaria, in cui si esibiva un fotomontaggio del pontefice di Benedetto XVI, che baciava sulla bocca l'imam del Cairo. Questo l'ha fatto dopo la durissima protesta del Vaticano. scherza con i fanti, lascia stare i santi, ma c'è almeno un santo che in questo momento in effigie trema, San Raffaele. L'affondo della Procura di Milano arriva dopo due settimane dall'ammissione da parte del Tribunale Fallimentare del Concordato Preventivo del San Raffaele. C'è anche il fondatore Don Verze, tra i sei indagati per concorso in bancarotta, un miliardo e mezzo di euro di debiti accumulati dalla Fondazione Monte Tabor. L'unico finito in carcere è Piero D'Acco, 55 anni, uomo d'affari con le mani nella sanità in regione Lombardia e consulente non proprio ufficiale del prete manager, volto noto negli ambienti di comunione e liberazione. Il suo nome compare molte volte nell'agenda di Mario Kall, il braccio destro di Don Verze, morto suicida lo scorso luglio, ma non ci sono tracce di un suo ruolo formale all'interno della gestione di Don Verze. L'accusa dei pubblici ministeri di Milano è quella di aver creato fondi neri attraverso fatture gonfiate, lavori non eseguiti e pagati più del previsto, come per la società di viaggi con annee soggette per voli transoceanici, una consulenza da 2 milioni di euro per cercare un nuovo modello di aereo. Ma nel mirino dei PM ci sono anche quei 510 milioni di euro partiti dalla Fondazione Monte Tabor verso una delle società di D'Acco. Anche in questo caso, scrivono i magistrati, non ci sarebbe stato nessun interesse per il San Raffaele. C'è poi un milione di euro che i vertici della Fondazione avrebbero versato nelle casse di una società di costruzioni come anticipo per l'acquisto di un immobile in Cile. Le perquisizioni della Guardia di Finanza sono partite all'alba. Per tutto il giorno gli agenti in borghese sono stati nello studio di presidenza di Don Verze ai piani alti del Ciborio, proprio sotto quell'angelo da lui così fortemente voluto. Passate al setaccio in cerca di documenti anche l'ufficio e l'abitazione della sua segretaria personale, così come la cascina in cui vive Don Verze, perquisiti anche due iota di Piero D'Acco. Uno è ormeggiato nel porto di Ancona, l'altro a Lavagna. D'Acco l'ha chiamato Ad Maiora, quasi a testimoniare l'ambizione di voler arrivare sempre più in alto. Allora, torneremo questa sera a parlare della soluzione della crisi di governo. Allora, è un governo stimabile dei tecnici o un governo delle banche? Magari della più grande banca d'affari del mondo, come scrivono malevolmente gli avversari. È un governo che farà tornare la politica in primo piano o è un governo che affosserà la politica, che è assente dalla sua struttura? Anche di questo si parlerà stasera in una puntata speciale, straordinaria, dell'Infedele, con Gad Lerner, tanti esperti a loro volta, giornalisti e anche, come ormai necessario in tutti i consessi che si rispettino, un professore della Bocconi. E sempre di quel che è successo si parlerà prima, tra poco, con Lilli Gruber a otto e mezzo, ospite il segretario della CGL, Susanna Camusso. Ci fermiamo. Una cabina di regia per affiancare l'azione del governo Monti. Di questo si è parlato nella riunione del PDL, dell'ufficio di presidenza del PDL. Questa ovviamente è una cabina di regia che sarà del partito berlusconiano. Dice l'ex premier, una specie di governo ombra che aveva il compito di analizzare le iniziative dell'esecutivo e proporne di sue. Questa è l'ultima notizia del nostro giornale, il primo dell'era del governo Monti. Vi lascio a Susanna Camusso, ospite di Lilli Gruber a otto e mezzo, e poi allo speciale dell'infedele con Gad Lerner. Buonasera domani.